Nasco come esterno di difesa o di centrocampo, però sono stato già impiegato in passato anche se non molte volte come terzo di difesa. È un ruolo che comunque mi piace fare, cerco di interpretarlo nel migliore dei modi e penso di poter ricoprire entrambi i ruoli. Ci sono ancora un po' di carichi di lavoro da smaltire, gli allenamenti sono molto intensi, quindi sicuramente la forma migliore poi arriverà con un po' più di tempo, più avanti, partita dopo partita. Credo che i presupposti sono buoni, ho giocato molto spesso contro le squadre del mister e hanno sempre espresso un ottimo gioco, quindi sono sicuro che quest'anno anche noi esprimeremo un gioco ottimo. Il girone B è un girone dove la qualità di tutte le squadre si equivale, quindi sicuramente qua ci sono giocatori esperti, quindi consigli ne posso dare pochi, però sicuramente allenarsi nel migliore dei modi tutti i giorni e poi affrontare la partita con sicurezza, consci della nostra forza.